Se il tuo computer monta ancora un vecchio disco fisso o meccanico, è veramente il momento di fare un upgrade. Ciao, sono Zane di Turbola.it e nei prossimi minuti ti mostrerò come installare un SSD sul tuo PC. Operazione che ti consiglio caldamente di fare immediatamente perché otterrai benefici prestazionali davvero enormi a fronte di una spesa ormai quantificabile attorno alla decina di euro. E lo so cosa stai pensando, è una rottura di scatole, fare la migrazione perché bisogna reinstallare Windows, tutti i programmi, copiare i documenti eccetera. Ebbene, una buona notizia, seguendo la procedura che ti mostrerò fra poco, potrai fare una clonazione del vecchio disco fisso meccanico sul nuovo SSD e quindi essere operativo immediatamente senza bisogno di reinstallare tutto. Se ti ho incuriosito, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbola.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Come ti accennavo poco fa, per svolgere rapidamente l'operazione andremo a clonare il vecchio disco fisso sul nuovo SSD per poi installare quest'ultimo al posto del vecchio hard disk meccanico. Allo scopo ci serviranno i seguenti ferri del mestiere. Innanzitutto il PC sul quale vogliamo installare l'SSD al posto del disco fisso, che può essere anche un PC di generazione precedente. Un SSD con interfaccia SATA, sono gli scatolotti rettangolari classici, quindi non gli stick di formula allungata di nuova generazione. E se ti serve un consiglio per l'acquisto, trovi la mia indicazione sempre aggiornata nell'articolo che ti ho linkato qua sopra. Ti servirà anche un adattatore da SATA a USB, anche per questo trovi il link nella descrizione del video qua sotto, e un classico cacciavite Philips, cioè di quelli a croce oppure a stella. Per quanto riguarda l'hardware non serve altro, mentre invece avremo bisogno di un software che ci permetta concretamente di fare questa clonazione. Fra poco ne andremo a scaricare uno gratuito, liberamente prelevabile da internet, che funziona veramente molto bene. Poiché il nuovo SSD avrà probabilmente una capacità inferiore al tuo vecchio hard disk, il primo passaggio consiste nel verificare quanto spazio su disco fisso stanno occupando tutti i tuoi documenti in questo momento. Se lo spazio occupato su disco fisso dai dati è inferiore alla capacità del nuovo SSD, non hai problemi, puoi passare direttamente al passo successivo. In caso contrario dovrai liberare un po' di posto su il vecchio disco fisso, in modo che lo spazio occupato sia inferiore alla capacità del nuovo SSD, proprio perché la clonazione riporterà tutti i dati dal vecchio disco al nuovo SSD e quindi la capacità deve essere adeguata. Se ti accorgi che lo spazio occupato su disco fisso è superiore alla capacità dell'SSD, nessun problema, nell'articolo che ti ho indicato collegato a questo video abbiamo fornito tutte le trucchi, tutte le guide, tutto il materiale e il software necessario per fare pulizia in mille modi. Se anche dopo aver fatto pulizia ti ritroverai comunque con troppi dati, dovrai spostare tutto quanto su un disco esterno, però di nuovo ti abbiamo indicato numerose utility che ti possono aiutare a capire quali sono le cartelle che occupano più posto, in modo da partire proprio da quelle con lo spostamento. Procediamo collegando l'SSD all'adattatore da SATA a USB, in modo da collegare l'SSD alla porta USB del PC. Se il tuo PC ha una porta USB blu ti consiglio di utilizzare quella perché generalmente siccome si tratta di una porta USB 3.0 oppure 3.1 e poiché tutti i nuovi adattatori da SATA a USB hanno anch'essi sta all'interfaccia, ti garantiranno le prestazioni migliori. Una volta che tutti i collegamenti hardware sono stati fatti, dovrai installare un software dedicato alla clonazione. Io ne ho provati davvero tanti questi giorni per trovare quello che secondo me era il migliore, il più efficace e quello più semplice da utilizzare. E alla fine la mia scelta è ricaduta su Easy As To Do Backup, un software di clonazione veramente gratuito che ha funzionato veramente bene. Oh, ben inteso, io non prendo una lira per raccomandarvelo, quindi se ne hai un software preferito per la clonazione puoi tranquillamente utilizzare quello. Una volta installato Easy As To Do Backup lancia il programma e dall'interfaccia principale clicca intanto sull'hamburger menu in alto a sinistra, quindi clicca clona. Mi ricomando non clona sistema ma solamente clona perché ci sono dei piccoli dettagli e delle differenze tra le due operazioni che fanno la differenza. Clona è l'opzione che ti interessa. Dobbiamo dunque selezionare la sorgente della clonazione, ovvero il vecchio disco fisso che vogliamo sostituire. Quindi individuiamolo dalla lista, è generalmente quello che contiene l'elemento C2 punti con scritto NTFS tra parentesi, e spuntiamo la casella di controllo che si trova di fianco al nome del disco fisso stesso. Quindi procediamo e al passo successivo siamo chiamati a scegliere la destinazione della clonazione. Ovviamente sarà il nostro SSD. Lo possiamo riconoscere anche perché è quello che, poiché è generalmente nuovo, non avrà neanche una partizione ancora definita. Prima di procedere clicchiamo su opzioni avanzate in basso a sinistra e dalla finestrella aperta si spuntiamo Ottimizza per SSD. Confermiamo ripetutamente, proseguiamo sempre facendo avanti, 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 e finalmente inizierà l'operazione di copia, che richiederà più o meno un'oretta, a seconda di quanti dati hai sul PC e alla velocità della macchina stessa. Alla fine, quando riceviamo l'indicazione clonazione del disco completata, possiamo spegnere tutto e scollegare l'SSD. La parte informatica si è conclusa qui perché adesso dobbiamo svolgere le operazioni di, diciamo, manovalanza. Ovvero, dobbiamo aprire il nostro computer, estrarre il vecchio hard disk ed inserire il nuovo SSD. Dovrai svitare alcune viti e mentre lo fai, tieni d'occhio e fai attenzione a riutilizzare, se stai lavorando sul computer portatile, la piccola gabbietta metallica che trovi già preinstallata al PC. Quindi dovrai estrarre il vecchio hard disk meccanico, svitare la gabbietta, prendere la gabbietta, avvitarla al nuovo SSD e quindi inserire il nuovo SSD al posto del vecchio disco. Una volta terminata anche questa operazione, è davvero già tutto pronto. Riavviamo il computer, partiamo con l'accensione e se le cose sono andate per il verso giusto, dovremmo trovarci davanti al nostro solito desktop di Windows. Con la grande differenza, che poiché stiamo già sfruttando tutta la potenzialità del nuovo SSD, sia il caricamento iniziale del sistema operativo, sia l'avvio delle varie applicazioni, dovrebbe essere davvero molto, molto veloce. Se sei un perfezionista, noterai che sotto risorse del computer è diventata visibile una nuova unità che si chiama riservato dal sistema. Se ti dà fastidio e vuoi toglierla, non c'è niente di più facile, basta accedere al pannello, all'interfaccia di gestione dei dischi e rimuovere la lettera all'interfaccia, seguendo la procedura che stai vedendo in questo momento. Bene, da zanedinturbo.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare sul pollicione qua sotto e fare mi piace. Per me è sempre davvero estremamente importante, quindi ti ringrazio. In anticipo, se potrai farlo. Per essere invece informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco e per tutto il resto ci sono i commenti qua sotto nei quali sono sempre molto interessato a sapere la tua esperienza. Sei riuscito a fare la sostituzione? Ti sei accorto di quale differenza prestazionale incredibile ci sia passando da un disco fisso meccanico a un SSD? Fammi sapere le tue impressioni e le tue opinioni proprio nei commenti qua sotto. Al prossimo video, ciao!